La seconda edizione del Venice Climate Camp in calendario dall'8 al 12 settembre si farà. L'iniziativa si trasferisce però dal Lido al Centro Sociale Rivolta a Marghera. Il Venice Climate Camp si farà, lo spostiamo però dal Lido al Centro Sociale Rivolta a Marghera. Le date sono sempre le stesse dall'8 al 12 settembre. Cambia la sede dopo che il Demanio, proprietario della batteria Cabianca al Lido di Venezia, non aveva concesso gli spazi in contemporanea alla mostra del cinema. Gli attivisti hanno voluto garantire la massima sicurezza sanitaria per svolgere l'evento. La loro presenza al Lido sarà concentrata al giorno della manifestazione dei precari dello spettacolo. Marco Baravagli ribadisce. Lo spostiamo a Marghera perché il Rivolta è uno spazio che conosciamo ed è uno spazio migliore per garantire di fare il camp in sicurezza e di mettere in atto tutte le misure anti-covid necessarie al sereno svolgimento di quell'iniziativa.